Allora parliamo della felicità come anche anche come prevenzione di disturbi della salute o di un ambiente lavorativo che non soddisfa o che non piace sì e la felicità è stato dimostrato da una gran quantità di studi epidemiologici che è una determinante fondamentale della salute della gente. La gente che tende ad ammalarsi è principalmente gente sola e poi gente con relazioni difficili, rarefatte, conflittuali, problemi di comunicazione e questa è la gente che tende ad avere problemi di salute. In realtà questo tipo di effetti da un punto di vista quantitativo sono più forti di quelli che i medici suppongono essere le determinanti della salute normalmente tipo fumare, fare attività sportiva, avere un'alimentazione sana, tutte queste cose sono importanti per la salute ma la felicità è più importante ancora. E come si fa ad essere felici per essere più sani? Beh guardi se lei vuole sapere che cos'è che secondo la scienza della felicità rende la gente felice le bastano due parole per riassumerlo, gli altri, perché la felicità della gente dipende dalla qualità delle relazioni con gli altri, anche dalla quantità perché le ripeto la gente sta peggio di tutta, di tutti sono quelli soli e quindi è molto semplice il riassunto, quello che dovremmo fare è avere una vita di relazione ricca. Questa è una cosa che in realtà anche i medici dovrebbero sapere e non sanno generalmente perché gli studi epidemiologici di cui le parlavo che mostrano che la felicità è una determinante fondamentale della salute sono studi super famosi, sono studi di gente che avrebbe preso il Nobel per l'epidemiologia se esistesse, che non esiste. I medici quando andiamo a fare una visita di controllo ci chiedono se fumiamo, se abbiamo un'alimentazione sana, se facciamo attività sportiva, in realtà la prima cosa che dovrebbero chiederci è se abbiamo amici, abbiamo buone relazioni con gli altri, abbiamo supporto sociale, siamo integrati nella nostra comunità, se abbiamo amori, queste sono le determinanti fondamentali della salute e questa è la prima cosa che ci dovrebbero chiedere e soltanto se rispondiamo di sì a tutte queste domande dovrebbero dirci, bene, sei sulla strada giusta per rimanere sano e campare a lungo. E sull'ambiente di lavoro, anche con questa crisi che sicuramente acquisce anche problemi a livello proprio comportamentale e sociale, che cosa si dovrebbe fare a livello di organizzazione del lavoro, che cosa dovrebbe fare un datore di lavoro per rendere l'ambiente di lavoro più sano e più felice? La prima cosa che dovrebbe fare è capire che i dipendenti più soddisfatti del proprio lavoro lavorano meglio e non peggio. In realtà quello che è successo nel mondo manageriale, nel mondo dell'organizzazione di impresa è che si è sparsa negli ultimi 30 anni la convinzione che il modo per ottenere efficienza nelle prestazioni di lavoro, sia stressare la gente, metterla sotto pressione, incentivi, stress, conflitti, controlli, pressioni, competizione sul lavoro. Queste sono le parole d'ordine sulla base delle quali è stata gradualmente riformata l'organizzazione di impresa in un gran numero di imprese. Tutto questo non ha prodotto maggiore efficienza, non ha prodotto guadagni di produttività e ha sparso un'immensa ondata di malessere nel mondo del lavoro, è quell'ondata di malessere che ogni intanto sfocia in ondate di suicidi che ovviamente riceve un grande notorietà mediatica come è successo a Telecom France, ma questa è solo la punta dell'iceberg di un immenso malessere sul lavoro che è generato fondamentalmente dalla errata convinzione che per essere efficienti sul lavoro bisogna essere stressati. Sì, non è vero, la gente più soddisfatta del proprio lavoro lavora meglio e non peggio. Quindi riorganizzare anche proprio gli assetti lavorativi all'interno di un'azienda o di un'amministrazione secondo lei? Sì, quello che dovremmo fare è prima di tutto capire che la qualità delle relazioni tra le persone in un posto di lavoro è fondamentale per il loro benessere sul lavoro, in particolare la fiducia. Gli studi mostrano che fidarsi dei colleghi, fidarsi dei superiori è decisivo per poter star bene sul proprio posto del lavoro e per essere efficienti, per essere produttivi. Poi bisognerebbe aumentare la compatibilità tra il lavoro e altre sfere della vita rendendolo più flessibile, aumentando i permessi per motivi di lavoro, i permessi per motivi familiari, approfondendo l'esperienza di costruzione per esempio di asili e scuole materne vicino alle imprese. Ci sono molte grandi imprese che fanno cose di questo genere e poi non esagerare con gli incentivi, con le pressioni e con i controlli perché se la gente percepisce che il gioco che si sta facendo al lavoro è un gioco a guardia e ladri, bene se tu fai la guardia io farò il ladro, questo non porta ad un aumento dell'efficienza del lavoro. Secondo lei, ultima domanda, le nuove tecnologie, il telelavoro per esempio possono e anche le aziende che sono più innovative stanno stimolando degli ambienti di lavoro e di vita un po' migliori? Stiamo andando in futuro in questa direzione? C'è una crescita di sensibilità? Sì, le aziende più innovative hanno capito queste cose che le sto dicendo stanno andando fortemente in questa direzione. Ne abbiamo esempi di grande rilevo perché se lei legge ad esempio l'organizzazione del lavoro a Google è basata su alcuni principi come rispetto della persona e il fatto che il lavoro debba essere un'attività stimolante, piacevole, in cui la gente possa essere coinvolta. Questo tipo di principi portano ovviamente a un'organizzazione del lavoro completamente diversa, per esempio a Google le gerarchie sono molto rilassate, il lavoro tende a essere responsabilità di gruppi di lavoro, si creano gruppi di lavoro e tendenzialmente sono gruppi di lavoro tra pari. Questo tipo di organizzazione del lavoro funziona, tanto è vero che Google ha un successo immenso, ma sto parlando solo della punta dell'iceberg.